La prima opzione che abbiamo individuato è stata quella del sito della giustizia. È un sito naturalmente a livello centrale, non è un ente locale, ma è stato scelto perché c'è una logica di minimalismo, di facilità di reperimento delle informazioni e di accompagnamento in un certo qual modo. Quindi la home page ripercorre un po' quelli che sono stati poi i concetti ripresi nel corso della giornata che vogliono una home page come crocevia per le informazioni. Il sito del Senato della Repubblica che ha sicuramente un grande merito, che è quello di avere dei link che in maniera molto veloce portano a tutte le informazioni che possono essere richieste dagli utenti. Qui già abbiamo un target differenziato perché possono essere diversi soggetti interessati ad una piuttosto che ad un'altra norma, stato di procedimento, conoscenza, eccetera. e abbiamo segnalato anche perché è un po' un piccolo fiore all'occhiello di applicazione della trasparenza. IMS ha due grandi mondi, il mondo dell'informazione e il mondo dell'interattività. E quanto ad interattività c'è veramente un ventaglio di opzioni estremamente ampio. Andiamo dalla possibilità di avere il proprio CUD al calcolo, al personale, alle verifiche soggettive per quello che possono essere le posizioni contributive. Quindi diciamo che c'è un ventaglio molto, molto, molto ampio. Quello del Comune di Venezia che ha però un difetto, secondo noi una criticità, presenta un punto di criticità rappresentato dallo scroll lunghissimo. Noi siamo fortemente orientati per la pagina minimalista tutta contenuta in una schermata.